ciao a tutti oggi vorrei parlare con voi del barret questa croce delizia croce via o croce e basta per alcuni chitarristi per tutti i chitarristi perché prima o poi tutti ci dobbiamo passare cerchiamo di capire un po vedere un po con qualche dritta come poterlo fare al meglio come poter superare questo scoglio che ci permetterà poi di andare avanti ed eseguire un sacco di cose perché davvero sulla chitarra il barret è un grosso spartiacque prima di cominciare una cosa che vi devo dire assolutamente sul barret come tutte le cose che facciamo sulla chitarra richiede pratica quindi in questo video non troverete la soluzione magica che vi permetterà nel giro di due minuti di fare il barret che state cercando di fare da settimane no non è questo il video adatto cercherò quindi di darvi dei consigli utili per accorciare il vostro tempo nella realizzazione degli accordi con il barret guarderemo un po l'impostazione della mano sinistra e qualche esercizio che di solito consiglio per arrivare ad ottenere un suono pulito incominciamo col dire che il barret non prevede che il nostro dito indice vada a suonare con questa parte proprio la parte sotto del dito indice del palmo della mano utilizzeremo la parte esterna del nostro dito indice ok molto spesso mi capita di vedere persone cercare di fare il barret tenendo il dito proprio perpendicolare schiacciando con il palmo della mano c'è chi ci riesce attenzione un'altra cosa il barret è una cosa molto fisica e personale quindi abbiamo tutti delle mani diverse e quindi ognuno avrà il suo modo di fare il barret non c'è un modo giusto un modo sbagliato l'importante alla pulizia del suono io personalmente tendo a suonare utilizzando questa parte del mio dito indice quindi quando vedete il mio fa noterete che il mio pollice ops mi sono sbagliato ho detto pollice in realtà era l'indice è un po' storto è girato verso l'esterno proprio perché sto utilizzando questa parte la parte esterna un'altra cosa che possiamo fare per incominciare ad approcciarci al barret prima di partire direttamente con l'accordo è cercare di utilizzare l'indice che fa il barret e il dito medio sopra di esso che lo aiuta a spingere come se dovessimo fare un barret di un accordo tipo il fa minore in questo caso quando stiamo approcciandoci al barret consiglio di partire magari non proprio dal primo tasto perché qui dovremmo esercitare una pressione maggiore cerchiamo di partire dal quinto tasto perché dobbiamo spingere un po' di meno e questo all'inizio ci può dare una grossa mano dicevamo indice che va sopra la tastiera e dito medio che vi si appoggia sopra cerchiamo di ascoltare cosa succede sotto il nostro dito quando premiamo cerchiamo di sentire le corde proviamo a suonarle il suono che deve uscire deve essere bello pulito a una corda non andava bene bene stacco e riprovo ok ho fatto suonare tutte le corde questa potrebbe essere quindi una posizione in cui il mio dito indice ha una buona presa per fare il barret cerchiamo di ripeterla e di memorizzare dov'è questa posizione perché ci tornerà utile una volta fatto al quinto tasto spostiamoci indietro al quarto poi al terzo ascoltiamo sempre il suono cerchiamo di produrre un suono pulito le note devono suonare bene e avere un bel sustain durare a lungo se non vi riescono se non avete il suono pulito al primo colpo mi raccomando staccate e riprovate una cosa molto importante da non sottovalutare quando si suona il barret non tenere il pollice qui su ma spostarlo dietro e deve essere in questa posizione così dritto esattamente dietro le nostre dita questo è molto importante perché ci aiuta a fare molta forza molta pressione un pollice qua sopra oppure il pollice spesso disteso così non è fantastico perché tende a fare forza in un punto sbagliato cerchiamo di tenere il nostro pollice dietro l'indice e il dito medio in modo tale che sia proprio come se fosse una pinza e che ci sia forza fra le nostre dita una volta fatto questo primo esercizio dove cerchiamo di far suonare tutte le corde con l'aiuto del medio possiamo provare a farlo solamente con l'utilizzo dell'indice vedrete che se avrete trovato la posizione vi risulterà molto più facile sentirete anche che comunque la pressione da esercitare con il dito con il solo dito indice sarà sicuramente maggiore perché non abbiamo più il supporto del peso di un altro dito ma non preoccupatevi perché appena andremo a mettere l'accordo le cose cambieranno incominciamo proviamo a mettere un accordo proviamo a mettere un accordo di mi in questo caso l'accordo di mi però non facciamolo come lo facciamo di solito con indice media anulare ma andiamo a farlo con anulare medio e mignolo ovvero mettendo il mignolo sul primo tasto alla terza corda l'anulare sul secondo tasto della quinta corda e il mignolo sul secondo tasto della quarta corda noterete che ci rimane l'indice in giro non è appoggiato da nessuna parte perfetto spostiamoci avanti anche in questo caso partire subito dal primo tasto magari un po' pesante dobbiamo esercitare troppa pressione cerchiamo di spostare il nostro medio magari al quarto tasto oppure al sesto tasto partiamo dal sesto tasto e appoggiamo l'indice sul quinto ricordiamoci quello che ci siamo detti prima ovvero che il nostro dito non deve stare appoggiato sulla tastiera in maniera esattamente perpendicolare a toccare con il palmo ma può ruotare un po' e toccare con la parte esterna andiamo a prendere solo la sesta corda e suoniamo sesta corda e lasciamo libere le prime due corde e le altre dell'accordo quindi io ho premuto con l'indice solamente la quinta corda e le altre corde ovviamente la terza la quarta e la quinta erano quelle che formavano la forma di mi abbiamo ottenuto un accordo pulito abbiamo capito che l'indice in questa posizione è buono proviamo a questo punto a mettere tutto il barret ascoltiamo sempre cosa succede sotto le nostre dita se provate a sentire sentirete che già dove state premendo con queste tre dita le corde sono schiacciate quindi il grosso della nostra forza il grosso della nostra pressione dovrà essere sempre sulla sesta corda e sulle prime due proviamo a suonare l'accordo rilassato un attimo la mano e poi rimettetelo in posizione partite sempre dalla parte dell'accordo formata non dal barret quindi dal medio anulare e mignolo andate a cercare quella che è la vostra posizione che vi permetta di fermare le corde sentiamo se rimettendo l'indice al suo posto il barret a questo giro suona proprio perché vi dicevo che è una cosa personale e dipende dalla forma delle nostre mani io personalmente per bloccare le corde al canto la prima la seconda corda utilizzo l'articolazione la parte fra la prima e la seconda falange qui dove si sente l'osso un po' più dura mi permette di spingere di fare un po di forza questo è la parte in alto del mio indice che va a fermare la sesta corda mi permette di ottenere un barret pulito come vedete il mio indice sta sporgendo è sopra è andato oltre il manico della tastiera non è rimasto esattamente dritto anche in questo caso tutti abbiamo mani diverse con ditta di lunghezza diverse vedrete chitarristi che hanno l'indice altissimo sopra o vedrete altri chitarristi che hanno l'indice che sta a filo con la tastiera non c'è nessun problema voi dovete trovare la vostra posizione quinto tasto ecco non ha suonato stacco rimetto in posizione ho rispostato l'indice come sono solito tenerlo e ha suonato bene suonato al quinto tasto passiamo al quarto bene andiamo al terzo bene secondo bene primo se vediamo che partendo con la forma del mi maggiore e il barret ci risulta ancora molto pesante possiamo utilizzare la forma di mi minore e quindi andare ad usare come abbiamo visto prima il medio che si appoggia sopra l'indice per darci una mano ascoltatevi ascoltate la vostra mano le vostre dita cosa sta succedendo sotto il vostro dito indice è molto importante cercare di farlo perché quando ci troveremo a suonare e utilizzeremo molti barret dovremmo cercare di essere in grado di esercitare la pressione giusta non troppo perché fare il barret è faticoso è stancante per la mano quindi avere sempre una grossa tensione nella mano quindi non aver analizzato per bene qual era la posizione giusta per fare il barret può diventare un problema in un brano con molti barret da eseguire detto questo la stessa cosa vale anche per gli accordi che utilizzano le forme di la di re di do e di sol il barret funziona allo stesso modo per chi è nuovo al discorso delle forme bene se ci avete fatto caso io ho semplicemente preso un do fatto con le altre dita e l'ho spostato avanti mettendo il barret in questo caso l'ho portato avanti di tre tasti quindi di un tono e mezzo e sono andato a suonare un mi bemolle la stessa cosa fatta con un la mettendo il barret e spostandolo avanti di tre tasti sempre un tono e mezzo sono andato a suonare un do maggiore questo è il principio del barret ovvero con il barret noi possiamo accorciare letteralmente il manico della chitarra utilizzando il nostro indice come capo tasto mobile e quindi andare ad eseguire tutti gli accordi che abbiamo imparato in prima posizione maggiore o minori in altre tonalità e quindi seguire tutti gli accordi che ci servono per suonare la chitarra bene queste erano alcune dritte su come poter riuscire a fare il barret e approcciarlo dandovi una mano a accorciare i tempi di realizzo se questo video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale lasciare un like condividete questo video e qua sotto nei commenti se voi avete qualche modo vostro qualcosa che vi ha aiutato a fare il barret in tempo inferiore rendetelo pubblico di dominio pubblico perché è una cosa utilissima per tutti coloro che si stanno approcciando al mondo della chitarra bene noi ci vediamo alla prossima ciao